Diego li ho trovati io, stanno proprio sotto al prugno selvatico eh diciamo sono già aperti però sono 4 o 5 da trovare belli belli sono un po di città spettate qua, ci cosa non può cadere un po' non puoi cadere, guarda il pello che è soffitto No, ma sono bello, sono tu, sono tu, faccio visto, sono pure piccolini, sono pure piccolini appena nate. Guarda, guarda qua, 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 col monte, no, no, monte niente, monte niente, guarda qua che prugnolato, eh? E' bello, bello, eh Diego che roba è, coprire questo colmato questo. Vai, spero. Bello, io sa pure un'altra cosa. Vedi, è questo fino a che arriviamo a casa, si perde. Non so. Ma che manca che stai per lì? Sarà la classe di piccolo, no? Ehi, dì. Aspetta. Hai visto? Questo è già andato, questo qua, vedi? Questo è bello, no? Aspetta, vedi, vedi? Però guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qua, 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 guard Questa è buona a mangiare, eh? Come si fa questo a cotoletto? A cotoletto si fa. Me l'hai detto già una volta. Bellissimo, sai, sono bellissimo. Che stai facendo i prugnoli? Eh, dite, che gioco. Vai. Questa è bianchissima dentro, se l'apri. Aspetta, faccio prima. Guarda Diego, guarda, guarda com'è questa qua. È bianchissima dentro, vedi? Vedi? Vada qua. Sempre nei prati si trovano. Dio, ma questi posso farlo come facevo? Vedi, come fare i massi da burro? I massi da burro, impanato. Vai, vai. Vedi. Oh! Vedi! Vedi! Vedi. Vedi! Vedi. 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 21 maggio 2019 oggi 21 maggio 2019 sono in solitaria in una lecceta pura vediamo cosa ci offre oggi questa lecceta altezza 463 metri era inevitabile già si sapeva guardate che spettacolo guardate che spettacolo in un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.